Dico sempre che bere un bicchiere di vino non è soltanto piacere, ma è un racconto, quindi ricordi le annate, quello che vivevi in quell'anno, il posto dove l'hai bevuto, la persona con cui eri, per cui è proprio un racconto. Puoi percepire il sapore del Mediterraneo, il lavoro di tante famiglie insieme e l'unicità della nostra storia.